Pirati dei Caraibi, Will Turner vuole tornare come personaggio nel nuovo film che dovrebbe in teoria uscire e dovrebbe rivedere finalmente anche il ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow stando agli rumor e alle quasi certesse che stanno girando in rete sul suo proprio ritorno Orlando Bloom infatti durante un'intervista ha dichiarato che vorrebbe che il suo personaggio di Will tornasse nel prossimo Pirati dei Caraibi probabilmente per chiude la questione è rimasta aperta della post credit della vendetta di Salazar dove vedevamo lui che aveva gli incubi di Davy Zones che era tornato e poi vedevamo tipo conchiglie o cose di mare sotto il suo letto quella significa che Davy Zones probabilmente era veramente tornato dopo che tutte le maledizioni erano state spessate una volta che Tridente era stato rotto e Salazar era stato sconfitto quindi teoricamente dovrebbero continuare quella storyline dall'in poi tecnicamente per quanto riguarda Will che quando arriva da Jack Sparrow non sappiamo quale nuova storyline vogliono metterli se è bello però rivederli rincontrarsi e che Will Turner abbia uno spazio un po' più adeguato incontrarli a vendetta di Salazar che è comparso solo all'inizio del film e alla fine del film quindi vediamo un po' qual cosa vogliono fare io sono molto curioso perché io voglio rivedere questo personaggio Will Turner mi è sempre piaciuto insieme a Elisabeth e ovviamente voglio rivedere anche il mio Jack Sparrow perché Johnny Depp senza Pirati dei Caraibi non è Pirati dei Caraibi e Pirati dei Caraibi non è Pirati dei Caraibi senza avere Depp quindi secondo me le cose sono molto strette e collegate e lo faranno tornare probabilmente per un ultimo capitolo per chiudere completamente la storyline di Jack Sparrow e di Will Turner fatemi sapere in un commento di sotto cosa ne pensate di questo possibile ritorno ripeto non è niente di confermato sono Vossi diretto durante l'intervista con Orlando Bloom e ditemi un po' se lo volete rimuovere Will Turner oppure no ciao a tutti